L'innominato dalla soglia della camera della vecchia diede un'occhiata in giro e al lume di una lucerna che ardeva su un tavolino pide Lucia rannicchiata in terra nel canto più lontano dall'uscio. Quindi intravede Lucia che si trova in un angolo della stanza, quell'angolo più lontano dalla porta e poi ovviamente si rivolge alla vecchia. Chi ti ha detto che tu la buttassi là come un sacco di cenci, sciagurata, disse alla vecchia come un cipiglio eracondo, quindi si arrabbia con la vecchia. Infatti aveva detto di accogliere, ma la vecchia era sempre stata forzata, non aveva neanche saputo tranquillizzare Lucia lì alla taverna della malanotte. «Se messa dove le è piaciuto», rispose umilmente colei, «io ho fatto di tutto per farle coraggio, lo può dire anche lei, ma non c'è stato verso». Sempre chiusa nella sua grettezza, la vecchia non si rende conto che di fatto non ha fatto proprio niente per tranquillizzare Lucia. «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia, andandole vicino, ma Lucia, a cui il picchiare, l'aprire e il comparir di quell'uomo, nelle sue parole, aveva ammesso un nuovo spavento nell'animo spaventato, stava più che mai raggomitorata nel cantuccio, col viso nascosto tra le mani e non muovendosi, se non che tremava tutta. Quindi l'unico movimento che faceva era un tremare, un tremolio. Quindi l'innominato usa il tono della voce, dice «Alzatevi», disse l'innominato a Lucia. Quindi l'alzatevi, che si ripete anche altre volte, sta a indicare l'uomo vecchio che ancora comanda. no. Poi però questo comando diventa sempre più stemperato, sempre più moderato, e dall'altra parte c'è Lucia, che non riesce a fare altro se non a tremare. Perché riprese Lucia con una voce in cui, col tremito della paura, si sentiva una certa sicurezza dell'indegnazione disperata. Insomma, lei comunque ha provato, e prova ancora adesso, tanto sdegno. Cosa le ho fatto io? In nome di Dio, 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 interruppe l'innominato, sempre Dio. Quindi, allora, attenzione. Lucia l'aveva già chiesto alla vecchia, ha detto «Ma chi è il padrone di questo posto?». E la vecchia ha detto che non ne lo poteva sicuramente dire, no? Perché non sarebbe in corsa nelle ire del suo padrone. Adesso è lei direttamente a chiedere all'innominato chi è, che cosa le ha fatto, che cosa le ha fatto lei per essere stata rapita, e poi a implorarlo in nome di Dio. A questo punto l'innominato dice Dio, Dio, sempre Dio. All'inizio quindi l'innominato appare scocciato da questo mettere in campo Dio. Però è da qui che incomincia quella lotta, la lotta interiore sulla fede, insomma, che occuperà tutta la notte. Alzatevi, altro alzatevi, dicevo, ripeto, per tre volte gliel'ha chiesto, che non voglio farvi del male, posso farvi del bene. Via, fatevi coraggio. V'ho fatto nessun male, v'ho minacciata. Quindi come vedete il tono cambia, soprattutto poi rivolgendosi alla Lucia mano a mano, mano a mano, nel corso del dialogo. C'è la compassione, c'è, chiede insomma l'innominato, vi ho per caso minacciata, vi ho fatto del male. Questa compassione è già un primo sintomo di cedimento davanti all'evidenza del cambiamento. Cioè l'innominato sta iniziando a cambiare e lo si vede questo già da come si comporta diversamente con le persone. Coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la forza, sempre hanno questo Dio da mettere in campo, come se gli avessero parlato. Cosa pretendete con questa vostra parola? Di farmi, convertire. E lasciò la frase a mezzo. Quindi comunque c'è un dialogo in cui è ancora molto presente l'uomo vecchio, per cui nella sua prospettiva questo mettere in campo Dio sarebbe una manifestazione di debolezza. Al contrario invece, per Manzoni, proprio confidare in Dio rappresenta la forza degli oppressi. E questo lo vedremo appunto nella fine, nel suo della storia, la fine del romanzo. Oh Signore, pretendere! Cosa posso pretendere io, meschina, se non che lei mi usi misericordia? Dice, insomma, Lucia, che non pretende nulla. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Questa è la frase centrale, no? Di tutto il dialogo fra Lucia e l'inominato. Ed è la frase che continuerà a martellare nella testa dell'inominato per tutta quanta la notte. Insomma, è attraverso Lucia che si rivela l'amore di Dio come misericordia, come perdono, autorevole sicuramente, ma non più pauroso, come invece l'aveva immaginato all'inizio della sua riflessione l'innominato, come castigo, eccetera. Ma se può essere misericordia invece che castigo, allora potrebbe dare quella pace, quella serenità che l'innominato sta cercando. E poi addirittura l'innominato si chiede. Oh, perché non è figlia di uno di quei cani che mi hanno bandito, che hanno quindi esiliato e fatto cacciare dallo Stato, l'innominato, pensava lui, di uno di quei vili che mi vorrebbero morto. Perché lei non è figlia di uno di questi qua? Che ora godrei di questo suo strillare. E invece, evidentemente, questo suo strillare continua a scavare nella coscienza dell'innominato, ormai lontano dalle sue usuali reazioni di odio e violenza, alle quali vorrebbe ritornare, ma che ormai rappresentano un passato. Non gli scacci una buona ispirazione, proseguiva fervidamente Lucia, rianimata dal vedere una certa aria di esitazione nel viso e nel contegno del suo tiranno. Quindi Lucia ha intuito comunque, a parte le parole, proprio nel viso, nell'atteggiamento dell'innominato, un cambiamento, una compassione, dicevamo noi, un'esitazione, come se dicesse alcune cose, ma iniziasse a pensarne delle altre. E Lucia quindi falleva su questo e dice di proseguire su questa strada. Domattina, oh mi liberi ora subito, domattina ci rivedremo. Sembrava quindi che la frase domattina, domattina, no? Significasse semplicemente, no? Che domattina avrebbe liberato subito, infatti, Lucia dice, mi liberi subito a questo punto, invece di aspettare domattina. E poi invece il nominato, ritornato un po' l'uomo vecchio, dice, domattina ci rivedremo, vi dico. Via intanto, fatevi coraggio, riposate, dovete aver bisogno di mangiare, ora ve ne porteranno. Quindi, preoccupato che essi dia da mangiare, che lei si rifocilli. Lucia, insomma, nel dialogo con lui, mentre lo supplica di liberarlo, dice quella frase, quella frase centrale, Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Questo non rientrava nell'esperienza del nominato, che era sempre stata un'esperienza di violenza e quindi di ripicca e in un certo senso forse si era figurato anche Dio in questo modo, no? Come qualcuno che fa pagare uno scotto, ecco. E invece Lucia gli presenta un'immagine diversa di Dio. La vita aveva insegnato all'innominato che le opere di misericordia sono una debolezza, ma adesso si insinua il sospetto che invece non sia così. Quella frase, quindi, mette in crisi il suo punto di vista sulla vita e su di sé. Gli apre una prospettiva di esistenza totalmente differente, forse migliore. Certo, c'è la paura perché sta aprendo uno spiraglio verso una realtà che nemmeno immaginava prima, no? Ma forse appunto una realtà migliore. Insomma, si insinua in lui la speranza, ancora non chiaramente però, che qualcuno possa liberarlo dal male fatto, dal male commesso, dal peccato passato. Qualcuno che possa renderlo un uomo nuovo, puro, che gli dia la possibilità di ricominciare da capo. Questa speranza si tramuta in una promessa che fa a Lucia, una promessa velata che fa a lei di libertà, domattina vedremo, e a sé stesso di un cambiamento che di conseguenza l'avrebbe reso libero, quindi, da sé stesso, da quel sé stesso che lo ingabbiava. E tu riprese poi subito, voltandosi alla vecchia, falle coraggio che mangi, ha finito il dialogo, dicendo quindi che si porti da mangiare a Lucia, e impone alla vecchia di falle coraggio, mettila a dormire in questo letto, il letto della stanza, il letto della vecchia servitrice, e se ti vuole in compagnia, bene, altrimenti tu puoi ben dormire una notte in terra. In realtà Lucia non andrà a dormire nel letto della vecchia.